La cover inaspettata di un brano in inglese Lui è Jungkook, uno dei BTS, i ragazzi d'oro del pop coreano Il web impazzisce e in 10 minuti il video fa un milione di visualizzazioni In 3 ore 8 Numeri da record ai quali la band Superstar è ormai abituata Le ultime volte in tv insieme in collegamento con uno degli show più popolari degli Stati Uniti Loro che dalla Corea hanno conquistato il mondo Musica e coreografie Popolarissimi i video della loro quarantena J-Hope si allena e balla in palestra Shuka si concentra sull'arte Jimin in mascherina e video chat Con i concetti cancellati non resta che ripensare alla tournée mondiale dello scorso anno Con il nuovo trailer del documentario che le racconta Break the silence, rompi il silenzio